Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Arezzo e Valdarno. Sulla A11 per incidente un chilometro di coda tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione Pisa. Su raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti in entrambe le direzioni tra Badesse e Siena Nord. Su raccordo Siena-Bettolle per lavori rallentamenti tra Casetta-Monte Aperti e Castelnuovo-Berardenga e tra Rapolano e Colonna del Grillo. Sulla FIPILI ripartono i cantieri tra Montelupo ed Empoli Est. Dal 20 ottobre al 6 novembre è chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!